Come va? Lei è nella lista? No! Ma i miei amici dovrebbero esserci, forse li conosce bene. Franklin, Grant e... Jackson! E ora vi presentiamo il più bel fiore del coco bongo, Tina Carlyne. Bellissima. 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 Forza, andiamo. Diamo una scossa a questo posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.